dall'Olimpia Stadion di Monaco di Baviera dove sta per cominciare l'incontro di ritorno della semifinale della Coppa UEFA fra il Bayern di Monaco e il Napoli. Napoli è arrivato a Monaco di Baviera forte del doppio vantaggio di due settimane fa ottenuto con i gol di Careca e di Carnevale e spinto dal tifo di almeno 20.000 appassionati state seguendo proprio nell'immagine precedente un settore dove ci sono i tifosi del Napoli si calcola che almeno 20.000 tifosi siano qui per sostenere la squadra napoletana che è stata seguita da 4.600 tifosi partiti da Napoli in maniera ufficiale con i biglietti che erano stati assegnati al Napoli nella scorta di 5.000 ne sono stati restituti 400 ma poi da un po' tutta Europa non soltanto dall'Italia sono arrivati con ogni mezzo tifosi dai club quelli fissi come il club azzurro di Roma a club di nuova istituzione come quello olandese composto addirittura diciamo così misto da italiani e olandesi spicca anche la figura del padre di Kroll grande colonna del Napoli di qualche anno fa vedete in sovraimpressione ora la formazione del Bayern di Monaco il tecnico Juppain che si ha poi risolto a favore di Eck il dubbio che ancora aveva se giocare con due o con tre punte ha rinunciato a Johnny Ekstrom che va in panchina ed ecco la formazione del Napoli che invece è quella già prevista già scontata con Giuliani in porta Ferrara e Francini come terzini in difesa c'è anche Corradini poi con il numero 5 c'è Alemao ma è un numero 5 alla brasiliana del centrocampista Alemao il numero 6 è Renica che è il libero della formazione di Ottavio Bianchi poi con il numero 7 Torna Crippa che era assente nella partita di andata per squalifica e in pratica prende il posto di Carnevale che purtroppo è assente in questa partita numero 8 De Napoli, 9 Careca, 10 Maradona e 11 Fusi questa è la formazione del Napoli la formazione che non aveva dunque nessuna novità da inserire diciamo pure che era scontata con la squalifica di Andrea Carnevale e con il recupero si spera pieno di Diego Armando Maradona che giocò ricorderete nella partita di andata giocò in condizioni fisiche precarie anche eccolo inquadrato adesso anche se fu ugualmente protagonista nelle azioni più importanti che risolsero l'incontro a beneficio del Napoli con due gol a zero con le reti di Careca e di Carnevale ancora inquadrato il settore dove ci sono molti tifosi italiani ecco la terna arbitrale che è scozzese David Syme 45 anni è il direttore di gara di questa partita il tempo è abbastanza freddo non piove comunque quando il Napoli è arrivato in Baviera è stato accolto anche da pioggia e comunque è stato scongiurato il pericolo della pioggia stadio pieno circa 73 mila posti per motivi di sicurezza c'è un imponente servizio d'ordine almeno 800 poliziotti per motivi di sicurezza non sono stati venduti tutti i 78 mila biglietti che sarebbero a disposizione il Napoli è partito con un affondo di Diego Armando Maradona nel primo tempo Napoli maglia azzurra alla sinistra dei vostri schermi con il Bayern in completa tenuta rossa che gioca alla destra c'è un intervento di Fugler Fugler un giocatore che era mancato nella partita di andata che era squalificato era indisponibile ed ecco che il gioco viene sospeso per un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tremenda sciagura di Sheffield il gioco riprende con il Napoli che ha visto esaurire questa situazione di attacco c'è un intervento di Alemão però irregolare l'arbitro Saima segna il calcio di punizione in favore del Bayern Monaco a fondo ancora di Fugler ancora una palla intercettata da Alemão ecco la panchina del Bayern con Scheurer, Ekström, Jonsen, Kastenmaier e Schmidt Ekström è lo svedese che giocò nell'Empoli, Jonsen è il norvegese palla intercettata ma non completamente da Crippa prosegue l'attacco del Bayern con Nachweit che cerca di andare al cross che viene ancora intercettato la difesa partenopea che spazza è temibile ovviamente l'affondo del Bayern nei minuti iniziali il Bayern ha necessità assoluta di recuperare e quindi potrebbe anche sbilanciarsi e il Napoli ovviamente cercherà di ripetere la partita molto molto intelligente dal punto di vista tattico che aveva disputato all'andata al San Paolo ecco in azione Ek, giocatore che sostituisce Tonneva al tiro Ek fuori la conclusione del giocatore che riveste la maglia numero 10 quella dello squalificato, Olaf Tonne, sia Tonne che Carnevale furono ammoniti nella partita di andata e per entrambi è scattata la squalifica ci sono parecchi giocatori sotto squalifica sia per quanto riguarda il Bayern che per quanto riguarda il Napoli ancora il Bayern dopo il corto rinvio della difesa napoletana è ancora Ek che torna sulla palla, era seguito da Careca addirittura poi Nachweit, Reuter, Ek, Nachweit, Augenthaler il temibile libero che è stato richiamato in nazionale da Beckenbauer che è in tribuna Fügler va al cross, ancora un doppio rinvio da parte di Francini un colpo di testa di Flick quindi un intervento di Dorfner Nachweit Reuter ecco Fügler che fa venire in avanti ancora il capitano Augenthaler Augenthaler per Kegel un pericoloso traversone da parte di Kegel per Wolfhardt il colpo di testa di Wolfhardt rivediamo anche questa azione piuttosto pericolosa ha cominciato con molto ritmo il Bayern cross di Kegel, colpo di testa da parte di Wolfhardt che in questa partita è affiancato in attacco da Wegman che era indisponibile nell'incontro di andata Wegman che è anche il capocannoniere di campionato del Bayern non il capocannoniere della Bundesliga ha segnato 11 gol in campionato ecco la panchina italiana con Di Fusco, Bigliardi, Carannante, Romano e Neri e siamo così giunti adesso al quarto minuto e 15 secondi con Alameo che batte questo calcio di punizione in favore del Napoli lunga la palla per Careca che però si impegna nel duello con Flick cerca di servire ancora verso Francini che era venuto come sempre in avanti in queste occasioni cerca giustamente il Napoli di spezzare subito la trama è stato molto bravo De Napoli a intercettare a centrocampo Francini fa ripartire ancora De Napoli Crippa fermato da un robusto Teichel Crippa Wegman Fugler per Kegel ancora pericolosa l'affondo di Kegel che anche a Napoli era stato molto vivace e brillante sull'out sinistro Kegel ancora, un cross a rientrare per Fugler Fugler dalla parte opposta Flick è in buona posizione Eck e sul suo traversone interviene Crippa che devia in calcio d'angolo un momento di pressione da parte del Bayern era intuibile, era pensabile che ci sarebbe stata e in effetti così è anche se c'è il colpo di testa adesso di Francini che mette fuori Maradona anticipato insiste ancora il Bayern con Dorfner Crippa in copertura non riesce il lo scambio con Alemão che è poi costretto a commettere un fallo e quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione tedesca del Bayern sei minuti di gioco ecco la punizione il colpo di testa e la grande parata di Giuliani grande parata di Giuliani sul colpo di testa di Wegman bravissimo Giuliani che ha deviato in calcio d'angolo al sesto minuto e mezzo rivediamo la bellissima deviazione di Giuliani ecco l'angolo direttamente fuori la battuta dalla bandierina e quindi c'è un attimo di respiro per la squadra del Napoli che è stata sottoposta ad un assalto vehemente continuo da parte del Bayern in questi minuti iniziali con una palla goal annullata da Giuliani con bravura Crippa Fibler Corradini palla che carambola in fallo laterale e la rimessa è a beneficio del Napoli l'effettuata De Napoli carecca De Napoli ancora travolto dal recupero di un avversario Nando De Napoli che però chiama la panchina chiama il dottor Acampora un movimento subito ecco che rivediamo l'episodio è stato proprio Wolfhardt che ha affiancato Kegel in questa azione di recupero battuta comunque la punizione la palla sfugge ancora al controllo vedete che c'è sempre Francini che in queste occasioni è pronto a sganciarsi in avanti Francini ha già segnato un paio di gol molto importanti nel cammino del Napoli nella prima parte della Coppa UEFA Fügler ancora che spinge uno stantuffo sulla fascia sinistra Dorfner c'è Nachweig che viene in avanti Dorfner Reuter ecco ancora Dorfner ha intercettato bene Corradini ecco Maradona e c'è un intervento il primo fallo su Maradona subito intervento scorretto per fermare Maradona nella prima azione in cui il capitano del Napoli ha cercato lo spunto calcio di punizione in favore del Napoli decretata dallo scozzese David Syme nono minuto e diciotto secondi del primo tempo a Monaco Olympia Stadion è sempre zero a zero fra Bayern e Napoli mentre il Napoli ha giocato per qualche istante in dieci uomini perché De Napoli era andato fuori a farsi medicare è rientrato ma sta zoppicando un po' Flick per Nakvai cambia per l'altro terzino Fügler palla che stava sgusciando al centro l'intervento di Ferrara che gioca su Wolfhard mentre Corradini gioca su Wegman Renica è il libero mentre nel Bayern è libero è Augenthaler Maradona su Maradona c'è Dorfner centrocampista con caratteristiche difensive bella finta da parte di Alemao che può portare l'azione nella metà campo avversaria Alemao ancora lascia poi a Maradona Maradona nuovamente dopo una corta respinta in lotta fra due avversari c'è sempre un raddoppio di marcatura su Maradona e c'è spesso anche che il numero 7 è sgusciante in attacco ma si fa talvolta vedere anche in azioni di copertura ecco anche questo intervento abbiamo rivisto piuttosto ruvido palesemente scorretto ma del resto Maradona attira con il suo carisma la attenzione le attenzioni da parte degli avversari calcio di punizione vediamo Renica e Maradona e dalla parte in cui i mancini possono anche tentare la conclusione e vediamo questo calcio di punizione in favore del Napoli una barriera forse non molto distante Maradona tira lo stesso e il portiere compie un miracolo vicinissimo al gol il Napoli con una grande punizione di Maradona la stiamo rivedendo e il portiere Hauman si salva ecco la punizione che va sulla barriera e poi il portiere riesce a agguantare la palla e a respingerla e ancora il portiere Hauman sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora il portiere è riuscito a fermare l'azione nulla di fatto Napoli che si è reso pericoloso per la prima volta dopo una decina di minuti di attacchi assillanti da parte del Bayern quasi soffocanti è uscito fuori grazie a una delle solide punizioni di Diego Armando Maradona che ha messo a durissima prova il portiere Hauman è il portiere della Nazionale convocato da Franz Beckenbauer che come vi dicevo è in tribuna a seguire intanto ecco la replica del Bayern pericolosa sull'esterno della rete finisce questo pericolosissimo tiro del Bayern che siamo per rivedere da parte di Reuter ecco il tiro sull'esterno della rete ecco il quadrato Roland Wolfhardt che insieme a Jürgen Wegmann compone l'attacco le due punte come vi dicevo l'allenatore Einckes ha rinunciato alla terza punta che era lo svedese Johnny Ekström per sostituire Tonne ha preferito un centrocampista come Ek Augenthaler Krippa Krippa gioca sulla fascia destra De Napoli sinistra De Napoli su quella destra nel folto schieramento di centrocampo Alemao Krippa rimessa assegnata al Bayern fra le proteste dei giocatori napoletani 13 minuti e 50 secondi con il punteggio sempre di 0 a 0 fra Bayern e Napoli Flick Augenthaler ancora verso Flick affiancato da Fügler eccolo Fügler sul quale gioca De Napoli e lo stantuffo Fügler ovviamente dà preoccupazioni al tecnico De Napoli Bianchi vediamo Renica attaccato in pressing è costretto a regalare un calcio d'angolo ai giocatori tedeschi efficace pressing del Bayern rivediamo e la palla proprio sulla riga l'arbitro ha segnato il terzo calcio d'angolo in favore del Bayern traditoria molto lunga Crippa la mette fuori aria Maradona poi difende la palla dall'attacco di Kegel ancora Maradona Kegel vince il Teichel molto caparbiamente su Maradona Dörfner Dörfner ancora esce opportunamente il portiere Giuliani protetto da Renica davanti a Wolfhardt che probabilmente ha commesso anche un fallo infatti vediamo che il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della formazione napoletana in favore della difesa del Napoli hanno scambiato Renica e Giuliani sul rinvio dello stesso Giuliani molto lungo la palla penetra nell'area di rigore avversaria arriva poi anche Maradona successivamente in supporto all'azione di Careca che era rimasto solo era arrivato anche Corradini ecco vediamo che intanto Corradini sta tornando per recuperare la sua posizione difensiva sull'attacco di Dörfner che va al tiro para blocca Giuliani ancora quest'altra conclusione da parte del Bayern è sempre insistita la pressione la ricerca della manovra offensiva da parte della squadra tedesca Reuter un po' troppo spazio forse in questa fase Fusi intercetta sta retrocedendo un po' troppo davanti alla sua area di rigore la squadra napoletana Maradona lancio lungo si distende la squadra ora c'è Careca che aspetta di trovare qualche collaborazione si chiude però benissimo la difesa del Bayern e qui sono in superiorità numerica abbondantissima i tedeschi Kegel cerca ancora lo spunto Renica questa volta lo anticipa senza dover ricorrere al calcio d'angolo come nella circostanza precedente Fusi Alemau Fusi Augenthaler Nachwai Reuter Nachwai Fügler si cercano spesso i due terzini esterni Dorfner Eck Dorfner Reuter Augenthaler poi è andato alla conclusione una delle sue ancora il libero del Bayern a questa specialità del gran tiro a proposito di Augenthaler ricordo che è stato recentemente richiamato in nazionale Augenthaler a 31 anni Beckenbauer aveva detto che ormai il libero del Bayern pur essendo validissimo aveva un po' troppi anni ma evidentemente in questo momento la Bundesliga non offre qualcosa di meglio dell'esperienza di Klaus Augenthaler che è stato richiamato è stato convocato in vista dell'importantissima partita che si giocherà mercoledì 26 contro l'Olanda sarà una sorta di spareggio per vincere il girone che assegna un solo posto alla vincente per qualificarsi per dare novatte tanta attenzione a questa combinazione Careca Maradona Maradona ancora verso Careca Careca si allarga può effettuare il cross Maradona gol Napoli in vantaggio Napoli in vantaggio ma il guardaline ha alzato la bandierina il guardaline ha alzato la bandierina niente gol annullato il gol una grande combinazione fra Maradona e Maradona la rivediamo Careca e Maradona ecco la combinazione Maradona serve Careca che si allarga sulla fascia il cross per Maradona che salta di testa e viene annullato il gol di Maradona al diciannovesimo diciottesimo minuto annullato questo gol di Maradona che aveva segnato poi con una finezza diciamo con una cosa abbastanza inconsueta un colpo di testa non è la la specialità di Maradona il colpo di testa eppure aveva segnato a conclusione di un'azione molto bella sempre 0-0 dunque fra Bayern e Napoli Fügler Reuter Dorfner Flic Ecc Attenzione pericolo con un intervento ancora da parte di Francini e di Ferrara l'ultimo è stato Francini che ha fatto carambolare la palla sui piedi dell'avversario ecco l'intervento di Francini che è rimasto anche leggermente indolenzito dopo il contrasto con Wolfhardt Flick Augenthaler nachweid dopo l'impostazione di Augenthaler nachweid cerca la triangolazione l'arbitro questa volta non assegna la punizione ai tedeschi che avevano reclamato Ecc dopo un mancato disimpegno dei giocatori azzurri questa volta invece il disimpegno è felicissimo da parte di Alemao il cui rinvio è nella zona del connazionale Careca anticipato da Augenthaler poi Flick ancora Flick ha lasciato a Reuter scambio ancora fra Flick e Reuter buon lancio in profondità per Wegman che controlla male la palla e Renica aspetta che il pallone esca in fallo laterale la rimessa in gioco è di Crippa ancora Crippa il suo rilancio in una zona in cui sono sempre in preponderanza numerica i difensori del Bayern e riparte ancora il Bayern Dorfner fronteggiato molto bene da Alemao sta giocando ottimamente in copertura il brasiliano sempre con felicissima scelta di tempo nel suo intervento Augenthaler Figler Kegel Augenthaler riprova sul settore destro dove avanza Flick affiancato anche da Nachweich il cross di Flick il colpo di testa di Francini che precede quello che aveva tentato Wolfhardt 22 minuti e 20 secondi mentre il Bayern batte il quarto calcio d'angolo esce e blocca in presa alta Giuliani pronto il rilancio di Giuliani poi Maradona cerca di far scattare ancora il contropiede impostandolo su Krippa che viene però contrastato validamente e l'azione sfuma immediatamente Kegel fai cirofrara possibilità del cross colpo di testa schiacciato da parte di Wegman e è bravo Giuliani a non farsi sorprendere dal rimbalzo la palla era diventata pericolosa proprio perché aveva picchiato terra davanti al portiere Giuliani ha deviato ancora in calcio d'angolo e sono così cinque i corner in favore del Bayer colpo di testa di Wegman e calcio d'angolo ecco la battuta di Kegel ancora testa di Corradini ancora un colpo di testa da Francini poi un rinvio da parte di Alemao quindi Nachweit butta ancora nel mucchio colpo di testa nuovamente di Corradini Careca cerca di difendere il possesso della palla ma insiste il Bayer con Kegel fronteggiato però da De Napoli che non lo fa passare Kegel quindi tenta un cross sul quale Corradini è pronto a intervenire di testa e poi ancora Careca che tocca nuovamente di testa la palla non va in fallo laterale perché viene intercettata da Kegel che dà indietro a Flick che aveva coperto il ruolo di Augenthaler ruolo di libero di Augenthaler che si era ovviamente spinto in avanti in occasione del calcio d'angolo e insiste ancora riparte la manovra pericolosissima con Dorfner un tiro cross che viene fronteggiato prima da Renica poi da Alemao che evitano all'avversario di effettuare un pericoloso cross a rientrare si riprende con una rimessa laterale in favore del Bayern Nachweig Flick verso Kegel De Napoli ha intercettato De Napoli poi va a recuperare lui stesso la palla imposta per Careca era scattato De Napoli cerca il passaggio a volo Maradona per guadagnare tempo ovviamente per evitare di subire poi l'aggressione difensiva per cercare di prendere gli avversari in velocità sfruttando al meglio il loro repertorio di alta scuola tecnica Careca viene fermato da Flick Flick la palla rimbalza sull'arbitro involontariamente Careca la recupera quindi serve Alemau c'è un fallo su Careca ma il gioco prosegue l'arbitro fa proseguire proprio perché la palla è rimasta in possesso dei napoletani Maradona ancora cerca un lancio troppo in profondità Crippa non è riuscito a scattare al di là degli avversari per raggiungere il cross da parte di Alemau mentre vediamo Juppeinckes sulla panchina del Bayern che si agita seconda stagione con il Bayern da parte dell'ex giocatore ed ex allenatore del Borussia Menchen Gladbach ecco che ancora il Bayern avanza con Kegel cerca lo spunto per un tiro cross che si perde sul fondo questa iniziativa di Ludwig Kegel dopo 26 minuti e 50 secondi e all'Olimpia stadion di Monaco di Baviera è sempre 0 a 0 fra Bayern e Napoli sul rinvio di Giuliani sempre piuttosto lungo la palla arriva sempre nella metà campo avversaria e su Maradona però si chiudono i difensori sono stati Flick e Fügler a chiudere Maradona Nachweid Reuter Krippa ben protetto da un velo ottimo intelligentissimo da parte di Alemão Maradona si allarga Careca e Maradona intuisce la sua presenza lo serve arriva in sovrapposizione anche Corradini Careca cambia il gioco dalla parte opposta Nachweid Fusi fronteggia Nachweid Eck Dörfner Fügler va al cross il colpo di testa è di Corradini che svetta poi De Napoli mette a terra Renica cerca la triangolazione con De Napoli ma sul passaggio di ritorno la palla va fuori rimessa in gioco per il Bayern che continua ad attaccare Reuter e Dörfner spingono molto ecco e tutte e due proprio in questa azione sono entrati intercetta ancora un altro pallone Alemão poi però Careca non si aspettava il passaggio Fügler Fügler Eck ancora un cross un colpo di testa pericoloso che sorvola la traversa ancora un cross di Eck che è stato abbastanza insidioso in queste sue giocate ed ecco il colpo di testa di Wolfhard avete visto che scavalca la traversa ecco ancora inquadrato Roland Wolfhard autore di questo colpo di testa si alterna con Begman Maradona Maradona cerca di sgusciare a due avversari l'arbitro poi gli assegna il calcio di punizione contro e addirittura viene ammonito Maradona ammonito Maradona al ventinovesimo minuto Maradona comunque era non era fra gli otto giocatori del Napoli già ammoniti che sono Carannante Romano Corradini Renica De Napoli Fusi Crippa e Careca per questi giocatori qualora scattasse un'ammunizione oggi non ci sarebbe la possibilità di giocare la prossima partita finora due decisioni dell'arbitro Saim entrambe negative nei confronti di Maradona gli ha annullato un gol al diciottesimo che aveva dato la sensazione di essere regolare il guardarine aveva sbandierato e ora lo ha ammonito per questo intervento Maradona addirittura pensava che la punizione fosse a suo favore probabilmente non era a suo favore la punizione però addirittura poi essere ammonito per questo episodio sicuramente sta innervosendo Maradona giocatore che anche all'andata sia pure in condizioni fisiche imperfette precarie riuscì ad essere determinante si riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli con Renica che va alla battuta lunga verso Careca ancora Maradona arriva in supporto cerca sempre di far valere la sua tecnica Alemao e c'è un buco sul settore sinistro dove non può essere proseguita l'azione dialogano i due brasiliani Careca poi va al tiro che gli viene un po' sporcato e conclusione dunque sul fondo dopo questa azione fra Careca e Alemao che ha portato il secondo calcio d'angolo al Napoli sul tiro di Careca avete visto che qualche piede si è messo in mezzo per deviare secondo angolo in favore del Napoli superata la mezz'ora Crippa Maradona fa partire finalmente il cross che gli viene ancora ribattuto e diventano così tre i calci d'angolo in favore del Napoli sempre Maradona anche questa volta va alla bandierina vediamo questa volta forse fa la battuta direttamente lunga in aria così è infatti Fügler riprende Alemao Alemao cerca lo spazio per il tiro allarga poi per Maradona affidandogli il compito di un altro cross che parte verso Crippa deviazione di Careca probabilmente l'ultima deviazione è quella del Napoletano e azione che si esaurisce a fondo campo tutto questo al 32esio minuto e 40 secondi col punteggio sempre di 0 a 0 fra Bayern e Napoli nell'incontro di ritorno della semifinale di Coppa UEFA Augenthaler Nachtwey Eck Nachtwey Kugl che si è spostato a destra Dorfner fronteggiato da Corradini il cross di Dorfner finisce sul fondo Giuliani è andato a recuperare la palla per effettuare il rinvio ancora in anticipo la difesa del Bayern con Flick ora Fügler Lachie Nachwait Augenthaler Ecke incrocia Reuter Flick va al cross controllato da De Napoli di fronte a lui c'è Wegman dietro c'è Kegel al rinvio De Napoli palla però raccolta immediatamente da Fügler ripartino avanti ancora Augenthaler Nachweid Reuter, mancato l'intervento Nachweid va al tiro, grande risposta ancora del portiere Giuliani grande parata di Giuliani su Nachweid che era rimasto libero per un mancato intervento difensivo, secondo provvidenziale intervento di Giuliani grandissima parata di Giuliani sul tiro di Nachweid battuto l'angolo e sono così sei gli angoli per il Bayern rinvia Alemau che mette fuori ed è l'area di rigore ma riprende immediatamente il Bayern che ora manovra con Ecke ancora un cross di Ecke Corradini mette fuori area riprende Reuter Flick Nachweid che ha avuto una delle occasioni più grosse ma il suo bel tiro è stato parato splendidamente da Giuliani troppo lungo questo lancio per Fügler rimessa laterale a beneficio del Napoli Maradona difende la palla Maradona Renica subisce un contrasto molto ruvido Bianchi ha portato in panchina Bigliardi Carannante Romano Nerico il secondo portiere di Fusco mentre vediamo Renica che batte il calcio di punizione spiovente verso Careca sul quale è intervenuto Augenthaler ora Nachweid ora Flick Reuter Augenthaler riceve da Nachweid lascia a Dörfner ancora combinazione tentata da Dörfner e Reuter si è inserito molto bene Crippa Maradona e c'è il fischio però dell'arbitro prima che Maradona serva verso Careca l'arbitro Saim aveva già fischiato spezzando l'azione napoletana che poi in realtà alla fine non ha certo beneficiato di questo calcio di punizione in quanto la manovra si stava sviluppando in maniera abbastanza veloce comunque calcio di punizione in favore del Napoli c'è Alemau sulla palla Careca manca l'aggancio e l'azione sfuma nella zona del portiere Raimond Hauman è stato anche lui però molto bravo in una circostanza spunto di Wegman sul quale recupera Ferrara ecco Jürgen Wegman settimo angolo per il Bayern testa da parte di Renica Nachweit palla che poi viene controllata da Giuliani che la lascia uscire fuori viene travolto viene travolto da Reuter Giuliani era uscito opportunamente a chiudere il lo spazio per Wolfhard per Reuter per Wegman che si stavano fiondando nell'area di rigore Reuter Fügler va ancora al tiro Wolfhard palla che carambola su Francini e va ancora in calcio d'angolo sono così otto gli angoli in favore del Bayern abbiamo Corradini che controlla Wolfhard Fügler ha la battuta molto lunga Fügler sulla ribattuta verso Nachweit che si allarga ma c'è il bel contrasto da parte di Careca che poi mantiene la palla in campo cerca di scattare in contropiede la difesa del Bayern si chiude viene servito lancio lungo ancora di verso l'area di rigore controlla Alemao ec al tiro fuori la conclusione del Bayern in questa circostanza al quarantesimo minuto avete visto il tiro di ec che ha concluso questa ennesima azione della pressione del Bayern Flick sul rinvio di Giuliani poi Ferrara Crippa Alemao Ferrara va al rinvio agguanta la palla Maradona cerca di difenderla in qualche modo ma la guardia su di lui soprattutto da parte di Flick è sempre scorretta e Maradona fa le spese del controllo molto ruvido da parte degli avversari ancora a terra Diego Armando Maradona vediamo che Saim invita i napoletani a essere più rapidi nelle operazioni di ripresa del gioco ma Maradona è stato trattato molto ruvidamente c'è da dire Saim ha fatto chiaramente intendere che vorrà recuperare il tempo che in Napoli in effetti in questo momento sta giustamente perdendo vediamo che anche l'assaggiatore Carmando è entrato in campo sono giustamente le operazioni di disturbo che le squadre devono farsi in queste circostanze Napoli ha tutto l'interesse a far passare il tempo il Bayern invece cerca di forzare questi tempi più passa il tempo e più diventa nervoso 42 minuti e 10 secondi 0 a 0 fra Bayern e Napoli calcio di punizione in favore del Napoli vediamo ancora Diego Armando Maradona sulla palla di da lui c'è Alessandro Renica anche lui potrebbe tentare la botta da quella distanza vediamo la punizione che finisce sulla barriera la riprende Alemao ancora Renica la riconquista ma su De Napoli c'è un anticipo Kegel ha rinviato dietro e ha rimasto Fusi a coprire il ruolo di libero con Renica che si era spinto in avanti non a caso Fusi in occasione delle giornate in cui Renica è indisponibile sostituisce proprio il compagno nel ruolo di libero De Napoli cerca se non altro di allontanare la palla non potendola mantenere in campo la rimessa in gioco è del Bayern con Fügler siamo al quarantatresimo minuto del primo tempo Augenthaler Flick Flick Nachwai Flick Nachwai Flick Nachwai cerca il lancio in profondità Fügler raddoppio di marcature con l'intervento di Corradini che poi fa carambolare la palla sul corpo di un avversario e guadagna dunque la rimessa laterale a favore del Napoli l'ultimo tocco è stato di Kegel Renica battuta lunga e fuori gioco fuori gioco sempre dello stesso Guardalini che aveva annullato prima il gol di Maradona Ecco Dörfner Nachwai Flick va al cross sul colpo di testa di Ferrara poi c'è questo secondo intervento da parte di Nando De Napoli che spazza in fallo laterale ancora rimessa in gioco del Bayern con Fügler c'è un fallo di mano da parte di Corradini c'è quindi il calcio di punizione in favore del Bayern mentre sta scadendo il tempo regolamentare Massaime sicuramente concederà qualcosa di recupero Kegel la battuta colpo di testa di Alemau arriva ancora Alemau per disturbare la manovra e c'è Corradini che copre molto bene sul Reuter e poi va al rinvio nella zona in cui ci sono però soltanto giocatori tedeschi quindi Flick serve Eck Nachweit ancora i tedeschi che spingono Reuter Kegel lo ferma molto bene Alemau un rimpallo sfavoriva la difesa del Napoli in un primo tempo poi c'è stato il rinvio perentorio quindi c'è questo tocco all'indietro verso il portiere Haumann deve uscire per evitare che Maradona sempre in agguato approfitti della circostanza e dunque siamo arrivati al 45esimo minuto e 45 secondi con il punteggio di 0 a 0 fra Bayern e Napoli si sta per concludere il primo tempo ed è di Nachweit l'ultimo tocco che manda la palla ancora in fallo laterale la rimessa in gioco sarà del Napoli mentre vediamo che Nando De Napoli continua a zoppicare De Napoli è rimasto contuso in uno dei primi ruvidi scontri di gioco e si è ripreso è rimasto anche un paio di minuti circa fuori però non è nelle migliori condizioni speriamo che nell'intervallo negli scogliatoi De Napoli possa recuperare meglio perché è importante per il Napoli avere la spinta l'apporto di un elemento di esperienza e di grinta come Nando De Napoli finisce dunque il primo tempo all'Olimpia Stadion di Monaco di Baviera con il punteggio di 0 a 0 fra Bayern e Napoli un punteggio indubbiamente importante un punteggio ottimo per il Napoli mentre adesso la regia ci ripropone l'azione più importante della partita la combinazione Maradona Careca il cross di Careca e vedete che da questa posizione sembrerebbe che Maradona fosse in posizione regolare il guarderine però aveva sbandierato e l'arbitro sai ma annullato il gol di Maradona dunque si va al riposo col punteggio di 0 a 0 fra Bayern e Napoli ci sentiremo fra un quarto d'ora la linea torna Silvio Sarta allo studio 9 di Roma ed eccovi ancora le immagini dall'Olimpia stadion di Monaco di Baviera dove la regia tedesca ripropone quello che aveva fatto vedere proprio la conclusione del primo tempo vale a dire l'azione del gol al diciottesimo del primo tempo appunto annullato per la posizione di fuorigioco notata dalla guarderina nei confronti di Maradona che di testa era proprio una particolarità aveva concluso in maniera splendida una combinazione con Careca che lui stesso aveva iniziato battendo il portiere Aumann che era stato bravissimo qualche minuto prima proprio su una punizione di Maradona il punteggio di 0 a 0 per questo incontro di ritorno che ha messo in movimento un imponente servizio d'ordine le telecamere della televisione tedesca stanno frugando negli spogliatoidi vediamo Carmando vediamo Careca Renica De Napoli ecco tutti i giocatori del Napoli che stanno rientrando ecco Fusi ecco Alemao che è stato bravissimo e anche Giuliani è stato molto bravo Giuliani in un paio di interventi è stato determinante De Napoli Corradini che stanno rientrando vi ricordo ancora la formazione del Napoli che gioca con Giuliani Ferrara-Francini Corradini Alemao Renica Crippa De Napoli Careca Maradona e Fusi squalificato purtroppo Andrea Carnevale il Bayern gioca con Haumann Nachweid Fügler Flick Augenthaler Dorfner Kegel Reuter Wolfhard Eck e Begman Squalificato Ton dicevo imponente servizio d'ordine 800 poliziotti 73.000 posti allo stadio circa 20.000 tifosi del Napoli 250 giornalisti in tribuna con 150 crediti che sono stati rifiutati perché non c'era più posto poi ci sono gli osservatori brighenti per l'Italia la nazionale italiana e Beckenbauer allenatore della nazionale tedesca Beckenbauer che ha convocato fra l'altro quattro giocatori del Bayern per l'importantissimo incontro di cui vi dicevo per la partita partitissima contro l'Olanda sono il portiere Haumann il libero Augenthaler Reuter e Ton Ton non fa parte di questo incontro perché è squalificato ma è un giocatore del Bayern che è stato convocato comincia il secondo tempo di Bayern Napoli il Bayern alla sinistra dei vostri schermi incompleta tenuta rossa abbattuto il calcio di inizio e viene avanti con Nachbay Fugler Eck Kegel cerca lo spunto Kegel il tiro di Flick controllato 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 dalla difesa del Napoli è questa la prima azione portata dopo una quarantina di secondi dal Bayern che nel primo tempo ha premuto soprattutto nella fase iniziale ha impresso un grande ritmo inizialmente alla fine ha battuto otto calci d'angolo contro i tre delle Napoli ma se si eccettano un paio di occasioni ben sventate da Giuliani c'è da dire che alla fine come pericolosità le due squadre si sono equivalse perché la punizione di Maradona e il gol annullato lo stesso Maradona sono stati momenti estremamente pericolosi per il Bayern che adesso sta manovrando Reuter ecco Reuter appunto è uno dei quattro convocati va al cross insidioso blocca molto bene in tuffo il portiere Giuliani davanti a lui c'era molto insidioso Begman e c'era anche leggermente spostato allargato Wolfhardt le due punte come vi dicevo in apertura il Bayern ha preferito poi giocare con due punte Wolfhardt e il rientrante Begman ed è stato il centrocampista Ecke che ha sostituito lo squalificato Ton un pallone in profondità di Maradona che flick poi completa in disimpegno difensivo verso il portiere Hauman Ecke il lancio di Ecke trova pronto Corradini su Kegel che si è spostato a destra e normalmente agisce a sinistra ancora Reuter Nachweite a sostegno verso Fügler cambiando il gioco va De Napoli in copertura davanti a Fügler De Napoli controlla bene Fügler e ancora lo ferma senza ricorrere al fallo anche perché poi in area di rigore sarebbe stato drammatico Maradona va al lancio verso Careca che è però preceduto da Nachweite Dorfner ancora verso Kegel cerca lo spunto Kegel cerca lo spunto che è un intervento forse su di lui l'arbitro comunque visto che il cross di Kegel è finito direttamente sul sul fondo e poi è rientrato è un cross che ha aggirato in pratica la porta di Giuliani dopo il contrasto fra De Napoli e Kegel appunto e il direttore di gara che è lo scozzese Sain ha segnato la rimessa dal fondo Krippa Kareca Maradona difende la palla Maradona poi cerca di dargli una mano alle Mao Kareca commette un fallo l'arbitro ha segnato una punizione battuta rapidamente verso Ek Ek cerca lo spazio per il cross che però gli viene impedito da Ferrara Nachwai c'è un po' di spazio davanti a Nachwai che però serve Reuter sbaglia il passaggio Reuter c'è Krippa ma sbaglia anche Krippa riprende Nachwai Dorfner insiste in attacco il Bayern pericoloso in questa circostanza tiro cross che finisce fuori con Wegman che si lamenta perché era in buona posizione per aspettare il traversone Wegman che era aspettava probabilmente il passaggio si è lamentato verso il compagno che ha tentato direttamente Giuliani riprende De Napoli Krippa verso Maradona che si libra dell'avversario Maradona in profondita fa proseguire verso Krippa sul quale esce manca la presa il portiere Hauman e Krippa forse non approfitta della circostanza ha tirato troppo frettolosamente troppo frettolosamente era una palla che il portiere Hauman si era lasciato sfuggire l'aveva persa e Krippa però ha tirato con troppa precipitazione forse si poteva cercare di scavalcare il portiere ma in quel momento Krippa ha fatto quello che immediatamente l'istinto gli ha detto Nachweid bella opportunità per il Napoli dunque al sesto minuto del secondo tempo avanza il Bayern pericolosamente ottimo però l'intervento difensivo di Fusi poi ora Alemau Alemau allarga il gioco verso Maradona Eck Kegel Flick Dorfner verso Wolfhard che però commette fallo ai danni di Ciro Ferrara e quindi c'è il calcio di punizione Wolfhard non è affatto d'accordo con l'arbitro che probabilmente gli ha fischiato un fallo di mano nel controllo calcio di punizione dunque in favore della difesa del Napoli ecco Nachweil Fiegler Kegel c'è Corradini che cerca di impedirmi il traversone con deviazione in calcio d'angolo il primo angolo del secondo tempo ed è il nono in favore del Bayern ancora ancora Jupp Einkes che si agita sulla panchina mentre Kegel non è andato questa volta a battere l'angolo attendeva il limite dell'aria ecco Flick Maradona però lo anticipa colpo di testo di Fügler ma risponde benissimo Fusi che si fa vedere molto opportunamente in copertura molti centrocampisti del Napoli ovviamente oggi hanno un ruolo soprattutto di copertura di contenimento della manovra del Bayern soprattutto di cercare di evitare che la manovra sia troppo insistita e troppo pericolosamente portata verso l'area di rigore insiste ancora il Bayern con questo lancio verso Ech da parte Dörfner intercettato da Krippa ma sulla tre quarti ancora riprende a premere Reuter palla che schizza verso l'out sinistro dove Kegel probabilmente se l'è portata fuori e così infatti ha visto bene l'arbitro Seim che assegna la rimessa dal fondo nono minuto e nove secondi della ripresa Bayern e Napoli sono ancora sullo 0-0 un meraviglioso 0-0 per quello che vale ai fini della qualificazione Függler ha deviato in fallo laterale ha rimesso in gioco di Nando De Napoli Maradona Borradini colpo di testa di Nachweit poi di Dörfner Palla lanciata verso Krippa che si spinge in avanti scatto di Careca forse fuori gioco Krippa cerca poi una conclusione dalla distanza per cogliere eventualmente di sorpresa Hauman la sua conclusione va direttamente sul fondo piuttosto alta sul rapido rinvio ovviamente da parte dei difensori del Bayern la squadra tedesca ancora imposta nella sua metà campo adesso la supera con Nachweit Augenthaler Függler Eck fallo di Fusi su Eck raddoppio di marcatura fra Fusi e De Napoli ecco fra le gambe dei due centrocampisti è andato a incocciare Eck c'è quindi ovviamente il calcio di punizione in favore del Bayern colpo di testa da parte di Francini gran tiro alto poi fuori la conclusione di Flick infatti è Flick il giocatore che ha tirato dopo la respinta di Francini 24enne Hans Dieter Flick centrocampista ma diciamo più difensore che centrocampista gioca spesso da difensore centrale affiancando Augenthaler nella coppia appunto di centro della difesa Fusi Careca è sbagliato il passaggio verso Maradona Augenthaler Dorfner verso Kegel c'è il bel anticipo da parte di De Napoli che però scivola ma caparbiamente si rialza quantomeno per allontanare l'azione del Bayern che comunque prosegue con Eck verso Wolfhardt sul quale c'è Francini in questa circostanza Guizzo di Kegel il tiro cross di Kegel taglia l'area di rigore ma finisce fuori senza grossi pericoli per Giuliano Giuliani partita che avrà anche un riscontro nella classifica UEFA in questo momento la classifica UEFA è guidata dalla Germania occidentale con 40 punti e 519 contro i 40 e 330 dell'Italia ci sono appena 189 millesimi fra Germania e Italia e se il Napoli riesce a eliminare il Bayern l'Italia passerà al comando della classifica UEFA c'è un fallo intanto su Remica da parte di Reuter e naturalmente si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa del Napoli vediamo un Giuliani estremamente determinato augen Augentale ecco Reuter ecco ancora colpo di tacco che libera Reuter è mal calibrato il cross di Reuter e finisce fuori ma anche se l'arbitro aveva però fatto proseguire il gioco fortunatamente Giuliani si è impossessato mentre vediamo che c'è un altro fallo su Maradona c'è un altro fallo su Maradona e siamo al tredicesimo il fallo di Augenthaler dunque il giocatore ammonito è Augenthaler e vede che Augenthaler arriva in seconda battuta dopo che era stato il guardiano abbastanza tradizionale cioè Flick che normalmente controlla Maradona l'ha controllato sempre in maniera piuttosto ruvida e in questa circostanza Maradona si era liberato della guardia di Flick Augenthaler è entrato in seconda battuta ha commesso il fallo da ammonizione ma anche Augenthaler non era ammonito quindi i due giocatori ammoniti oggi Maradona e Augenthaler non rischiano per ora di subire la squalifica UEFA e si riprende con il calcio di punizione per il fallo subito da Diego Armando Maradona lo batte il capitano Alessandro Renica la battuta lunga fa proseguire Careca cercando Maradona mancato l'intervento Maradona cerca di approfittarne mette al centro gol di Careca gol di Careca Napoli in vantaggio Maradona e Careca hanno approfittato dell'errore dei giocatori del Bayern quindicesimo minuto del secondo tempo Careca ha portato in vantaggio il Napoli fra il tripudio dei 15-20 mila e più forse sostenitori del Napoli rivediamo c'è il grossolano errore di Nachtweid che manca clamorosamente Maradona è sempre pronto lì l'aveva già dimostrato in tutta la partita di forza gli ruba la palla vede benissimo Careca libero non cerca la soluzione personale fa la cosa migliore che si doveva fare con calma con freddezza diciamo anche in un frangente così delicato mette al centro dove Careca realizza e il Napoli è in vantaggio con un gol di Careca e siamo giunti adesso al sedicesimo minuto del secondo tempo vediamo Nachtweid che viene crudelmente inquadrato dalla regia tedesca Norbert Nachtweid 31enne che è il responsabile del grossolano errore di cui Maradona ha saputo approfittare con la sua astuzia con la sua intelligenza calcistica e non aveva mai lasciato sciupare queste occasioni era sempre in agguato se c'era un errore Maradona era sempre pronto ad approfittare pure un po' in rendimento ovviamente non al meglio non al 100% perché le condizioni di Maradona sono ancora abbastanza precarie però l'intuito calcistico il talento calcistico di Maradona riescono sempre a fare la differenza soprattutto in occasioni di partite importanti come è una semifinale di Coppa UEFA cerca di andare ora il Bayern ad un disperata rimonta ecco che Johnny Ekström si sta preparando forse viene tentata la terza punta ma a questo punto dobbiamo dire che è al Napoli attenzione intanto a questa azione ma manca e la palla va in rete la palla va in rete nella mischia davanti a Giuliani palla in rete diciassettesimo minuto rivediamo l'angolo e il decimo sembrava che la difesa potesse intervenire colpo di testa diffusi di poi vediamo non è intervenuto a tempo utile il difensore ed è proprio il gol di Augenthaler che ha portato il risultato in parità 1 a 1 anche se comunque c'è da dire che il 2 a 0 dell'andata ecco che Renica tocca all'indietro al portiere Giuliani il 2 a 0 dell'andata dà un notevole respiro al Napoli che intanto va via con Maradona va via Maradona viene sbilanciato sbilanciato Maradona e c'è il calcio di punizione in favore a questo punto il Bayern deve segnare altri tre gol per poter scavalcare il Napoli Napoli ha vinto 2 a 0 all'andata per cui in virtù dei gol segnati in trasferta ecco Augenthaler che viene inquadrato il 3 a 1 ugualmente premierebbe in Napoli Maradona bala battuta alta la punizione di Diego Armando Maradona ecco che intanto si preparano i giocatori del Bayern per il cambio avanza intanto Dorfner Augenthaler ormai sempre più stabilmente in avanti scontro duro ancora Augenthaler e c'è naturalmente il calcio di punizione in favore del Bayern ventesimo minuto del secondo tempo a Monaco Bayern e Napoli 1 a 1 batte Nachweit attenzione palla ancora pericolosamente e poi conclude tutto per fortuna Reuter con un tiro violentissimo che però si perde lontanissimo ecco la prima battuta vedete che Corradini e Alemau hanno rinviato rimpallato il tiro poi vedete che Reuter manda direttamente fuori ed ecco il cambio esce Flick intanto però il gioco è sospeso perché nella mischia precedente il giocatore del Napoli è rimasto contuso a terra ecco che viene Ekström al posto di Flick Flick l'abbiamo già visto uscire prima ed entra lo svedese Johnny Ekström che ha giocato in Italia nella formazione dell'Empoli 24 anni passato quest'anno al Bayern Ekström dunque prende il posto di Flick per cui aumentano le punte e il Bayern abbandona un altro difensore quindi abbandona la copertura mantiene in campo però quel Ek che era in ballottaggio con lo stesso Ekström per sostituire Ton ma Ek si è dimostrato uno fra i migliori della partita quindi tutto sommato l'assenza di Ton non è stata molto grave c'è un gioco pericoloso da parte di Maradona battuta al volo la punizione Nachwaj battuta colpo di testa di Corradini raddoppio di marcatura con l'intervento di De Napoli rinvio di De Napoli verso Careca anticipato da Nachwaj esce tranquillamente su Wegman il portiere Giuliani il rilancio di Giuliani Maradona un tocco delizioso per far partire De Napoli a destra al cross verso Maradona Careca e alta la palla grossissima occasione per il Napoli con il cross di De Napoli che rivediamo c'erano tre giocatori Maradona Careca e anche Krippa e Careca manda alto al ventitresimo al ventitresimo è andato alto ecco Augenthaler alle prese con Alemao ormai Augenthaler fa l'attaccante lo fa in maniera molto irruenta Alemao si difende con la sua esperienza è Nachwaj che è diventato libero e Augenthaler ormai fa l'attaccante quindi sono praticamente quattro le punte del Bayern ecco il undicesimo calcio d'angolo Fusi con molta calma porta via la palla dall'area di rigore poi Ferrara esce Ferrara dall'area di rigore quindi Maradona Maradona resiste a un primo intervento non al secondo ma c'è ancora un bel intervento da parte di Ferrara di Fusi che torna in possesso della palla per il Napoli quindi ecco ancora nella replica del Bayern che ormai gioca in maniera quasi dissennata confusa ma è ovviamente con tutto l'ardore di cui è disponibile quindi sempre pericoloso per questo anche se la situazione è sotto controllo siamo al 24esimo minuto e 50 secondi il punteggio è di 1 a 1 e il 2 a 0 dell'andata porta il Napoli a potersi addirittura accontentare di perdere per 3 a 1 calcio di punizione verso in favore del Bayern ma nella sua metà campo l'arbitro assai me la fa ripetere Eck battuta lunga di Eck a cercare di far proseguire Wolfhardt e Wegmann Dorfner Eck Füller affrontato con successo da Corradini che gli toglie la palla è pronto a scattare ancora il controvedere Napoli Careca è lanciato da De Napoli serve poi al centro Maradona su Maradona chiudono in due e in qualche modo che l'arbitro comunque giudica regolare lo fermano questa volta era stato Careca a liberarsi nella posizione di alla destra con Maradona al centro lanciati da De Napoli in vesti di playmaker nella circostanza Eck Eck Tiro cross che finisce direttamente sul fondo a far esaurire questa ennesima azione d'attacco del Bayern di Monaco siamo giunti al ventiseiesimo minuto e mezzo del secondo tempo 1-1 si rimette dal fondo mentre naturalmente proseguono i festeggiamenti da parte dei tanti tifosi del Napoli la situazione in questo momento è estremamente favorevole alla squadra italiana e il calcio italiano è vicino alla conquista di tre finali cosa mai avvenuta dopo il trionfo della Sampdoria di oggi pomeriggio a Genova contro il malin detentrice della Coppa delle Coppe e con il successo che il Milan in larga misura sta tenendo sul suo campo contro il Real Madrid ancora la ripetizione dell'ultimo fallo di Fusi quindi c'è il calcio di punizione in favore del Bayern Monaco Saim allontana la barriera in cui si è inserito anche Fügler c'è Augen Thaler che è ricolosissimo in queste punizioni mentre i tedeschi hanno cercato di guadagnare un metro e qualcosa mentre lui non vedeva ma se ne è accorto Saim ecco che finalmente si dovrebbe riprendere punizione per Nachweit alta la conclusione fuori Nachweit ha cercato di farsi perdonare lo svarione che ha consentito all'astutissimo Maradona di rubargli la palla e di far segnare Careca ecco la ripetizione della punizione i cui sviluppi hanno portato poi al tiro Nachweit anche il Napoli sta per andare in campo Bigliardi un altro difensore e dovrebbe uscire Alemão Alemão che ha dato moltissimo ha dato moltissimo il brasiliano e ora al suo posto Nando De Napoli fa entrare Ottavio Bianchi fa entrare difensore come Bigliardi colpo di testa di Careca ancora Careca che va a saltare e ora salta con successo anche Krippa ma commette fallo appoggiando sull'avversario battuta la punizione Nachweit Dorfner apertura per Kegel di fronte a Corradini di nuovo a Dorfner una parabola in area colpo di testa di Bigliardi che anticipa Wolfhard e manda in calcio d'angolo dodicesimo calcio d'angolo per il Bayern e pericolosissima conclusione ancora con Flick con Dorfner ancora che è andata a fil di palo per la rimessa dal fondo superata la mezz'ora sul rinvio di Hauman intervento di Francini che ha commesso fallo su Wolfhard e l'arbitro ha segnato il calcio di punizione Dorfner Dorfner Nachweit ha intercettato molto bene il contropiede Maradona serve per Careca che è in posizione regolare Careca entra in area di rigore Careca e gol gol ancora doppietta di Careca il Napoli è in vantaggio e possiamo dire a questo punto il Napoli è in finale il Napoli è sicuramente in finale c'era già prima perché era impossibile prevedere prevedere una rimonta anche sull'1-1 ma a questo punto 31 minuti di gioco ecco Maradona ancora la combinazione vincente Maradona Careca e Careca va via in contropiede solo entra in area aspetta l'uscita del portiere Hauman e lo trafigge e a questo punto diventa trionfo questa qualificazione del Napoli per la finale di Coppa UEFA ecco la ripetizione ancora lo rivediamo ancora lo gustiamo ancora lo godiamo ancora il gol di Careca che fa incendiare l'entusiasmo dei tanti sostenitori italiani del Napoli ma non soltanto del Napoli ovviamente qui a Monaco in questo momento il Napoli sta rappresentando tutti i sostenitori italiani tutti gli italiani che sono nella zona ma non soltanto nella Baviera che sono in Germania in Francia in Olanda in Belgio e che con qualunque mezzo hanno raggiunto l'Olimpia Stadium di Monaco per essere vicini al Napoli in questa che è la sua prima storica conquista di una finale di Coppa Napoli finisce increscendo il Bayern ormai si sta arrendendo perché l'evidenza di fatti e c'è ancora un fuorigioco ancora un fuorigioco che ferma un'altra elegantissima trama combinata sempre da Maradona e Careca i due sudamericani che oggi hanno fatto letteralmente impazzire la difesa del Bayern sono stati sempre costantemente un pericolo tremendo per la squadra del Bayern che si era con molta grinta gettata in avanti fin dal fisto iniziale ma ha sempre dovuto restare in apprezzione per il grossissimo rischio che gli veniva dall'eleganza dal talento e dalle giocate in coppia di Maradona e Careca che sono stati in grado di tenere sempre sotto pressione e soprattutto sotto incubo la difesa del Bayern anche nel primo tempo quando il risultato è rimasto di 0-0 e poi nel secondo tempo quando ora si è concretizzato questo secondo gol di Careca aveva segnato anche all'andata Careca il gol del primo tempo poi c'era stato il raddoppio di Andrea Carnevale e ancora doppietta di Careca che con 4 gol diventa così il capocannoniere delle coppe per il Napoli Napoli che finora ha segnato con questi due 13 gol nelle sue partite di Coppa ne ha subiti 5 con quello di Augenthaler Giuliani lascia giustamente scorrere fuori ma ormai la partita non ha più senso ecco che c'è un altro cambio entra esce esce Nathweit che è stato protagonista sicuramente sfortunato per quanto riguarda l'episodio che ha sbloccato il risultato entra un altro straniero era entrato prima Johnny Ekstrom adesso entra il norvegese Jonsen eccolo che salta per toccare il suo primo pallone vediamo Hauman che è fuori fa il libero ormai il Bayern gioca senza schemi senza libero senza più nessun tipo di modulo tattico ormai a questo punto dovrebbe segnare altri cinque gol per poter eliminare il Napoli prova ancora Dorfner Reuter va al tiro fuori gol gol tiro di Reuter e ancora il Bayern riesce a pareggiare trentacinquesimo minuto del secondo tempo e Reuter ha pareggiato rivediamo anche il bel gol di Reuter che da fuori area vedete che ha tirato sorprendendo tutti quanti bella conclusione da parte di Reuter Giuliani aveva forse valutato fuori la palla il suo gesto anche visto ora sul monitor nel replay è chiaro aveva interpretato giudicato fuori la palla 2 a 2 dunque ma il punteggio a questo punto diventa abbastanza ininfluente Maradona Dorfner intanto ci comunicano che l'avversario del Napoli sarà un'altra squadra tedesca sarà lo Stoccarda che ha pareggiato a Dresda 1 a 1 contro la Dinamo sul riglio di Giuliani però c'è il fischio dell'arbitro che ha visto un'infrazione dei giocatori napoletani e assegna un calcio di punizione in favore della squadra della squadra del Bayern calcio di punizione a 2 in area del Napoli vediamo Kegel Reuter il tiro di Reuter ribattuto Ekström colpo di testa di Reuter fuori finisce fuori l'azione l'ultimo colpo di testa è stato di Augenthaler che in mischia ha tirato fuori 38esimo minuto del secondo tempo il punteggio è di 2 a 2 fra Bayern e Napoli sul rinvio di Giuliani c'è il colpo di testa da parte di Jonsen il norvegese Reuter un rinvio da parte di Fusi quindi ancora insiste Reuter Ferrara sul quale c'è forse un fallo il gioco comunque prosegue colpo di testa di Bigliardi poi manca il tiro il tedesco completamente nella mischia furibondo ormai anche il sistema nervoso lascia un po' desiderare la stanchezza i riflessi soprattutto Careca lancia molto bene Crippa in posizione regolare ancora per Careca Careca scavalca il portiere la palla è troppo lunga Careca ha cercato disparatamente di rimetterla al centro a beneficio di qualche compagno ancora una invenzione di Careca il passaggio per Crippa era stata proprio una sua cosa e poi sull'uscita di Auman Careca non è riuscito a scavalcarlo per poter rientrare lui stesso oppure far rientrare il pallone a beneficio di qualche compagno ma sono ormai soltanto episodi questi Renica si innalza il grido avanza ancora Maradona e c'è un fallo c'è un fallo da parte di Dorfner su Maradona eccolo Dorfner Maradona ancora uno spunto di classe uno spunto irresistibile contro il quale ancora una volta i tedeschi sono stati costretti a ricorrere al fallo calcio di punizione per il fallo di Dorfner su Diego Armando Maradona batte Maradona cercava o la sorpresa o di favorire Careca l'azione si smorza nelle braccia di Auman colpo di testa di Bigliardi ma c'era un fuorigioco e quindi c'è un calcio di punizione battuto dai tedeschi fa la torre Ekström De Napoli va a rinvio Careca ancora ottimo controllo di Careca cerca di servire Maradona riprende ancora Francini Maradona ancora un intervento duro su Maradona Maradona bravo anche a sapersi guadagnare le punizioni anche se i difensori tedeschi non hanno avuto bisogno dell'invito di Maradona perché il controllo è stato sempre estremamente ruvido però in queste circostanze guadagnarsi sapersi guadagnare la punizione saper spezzare il ritmo saper guadagnare tempo è sicuramente importante adesso un'altra punizione se l'è guadagnata Crippa e siamo giunti al 41esimo e mezzo il punteggio di 2 a 2 fra Bayern Monaco e Napoli doppietta di Careca due volte raggiunto prima da Augenthaler e poi da Reuter sempre molto ravvicinati i gol appena due minuti dopo il primo vantaggio di Careca assegnato a Augenthaler e quattro minuti dopo il raddoppio di Careca al 31esimo al 35esimo ha pareggiato ancora Reuter ma il Bayern per poter passare il turno dovrebbe segnare tre gol nei prossimi due minuti e mezzo c'è uno sbandieramento del guardaline il guardaline ha sbandierato ancora fermando Careca che aveva resistito al fallo quindi incredibile viene data la punizione a favore del Napoli è veramente una delle decisioni più sbagliate che l'arbitro Sain potesse prendere Careca Careca aveva resistito la carica dell'avversario era andato via da solo andava da solo verso la porta avversaria e il guardaline ha sbandierato per dargli una punizione a favore veramente incredibile per fortuna che siamo in una fase di gioco tale per cui l'episodio può tranquillamente essere ignorato ma è chiaro che in altre circostanze sarebbe stato ben più grave l'errore del direttore di gare e del suo collaboratore va via ancora Crippa che ha forza per spingere l'azione mentre non hanno più molta forza i difensori Crippa è ancora fuori gioco sul passaggio di ritorno di Maradona a Crippa Wolffart che viene dietro a dare manforte al centrocampo ma insomma a questo punto non c'è quasi più niente da fare Kegel abbastanza vivace e brillante come era stato nel primo tempo colpo di testa di Renica e mischia attende colpisce di testa Crippa mette fuori aria però poi la palla viene controllata da Maradona anche questa azione però viene fermata ma è incredibile che anche questa volta Maradona venga fermato l'arbitro ha visto un fallo di mano di qualcuno e che ha e quindi Maradona viene ancora fermato in questa azione c'è da dire che forse la prestazione del direttore di gara non è stata sempre molto comprensibile ecco che intanto esce Nando De Napoli cambio ovviamente soltanto per guadagnare tempo e fa entrare Carannante con il numero 14 ecco intanto Bigliardi che protegge l'uscita del portiere Giuliani e siamo ormai al 45esimo è fatta il Napoli si è qualificato e a questo punto c'è da dire peccato che gli è mancata la vittoria perché alla luce di quanto si è visto in tutta la partita ma poi soprattutto nel secondo tempo il Napoli avrebbe meritato di vincere ma comunque ha ottenuto un grande risultato ecco che viene lanciato proprio Carannante sentinare Carannante va al tiro fuori il suo sinistro molto potente molto violento è però fuori bersaglio ancora un'altra occasione che il Napoli ha saputo originare approfittando ovviamente dello scompenso difensivo degli schemi che sono totalmente saltati nello schieramento tattico del Bayern già diciamo dopo il primo gol di Careca che aveva al quarto d'ora della ripresa reso praticamente impossibile un tentativo di rimonta del Bayern figuriamoci dopo il raddoppio alla mezz'ora circa dello stesso Careca Bigliardi controlla la palla non viene più attaccato in pressing ovviamente hanno rinunciato a tutto i giocatori del Bayern che hanno speso moltissimo nel primo tempo erano partiti con un ritmo forzennato che loro stessi non hanno saputo poi mantenere conservare allo stesso livello nella ripresa si aspetta solo il segnale di fine di questa partita che sancisce la conquista della prima finale di Coppa Europea da parte del Napoli che il ecco che c'è questo tiro ancora fuori di Jonsen ecco il quadrato Jonsen il 3 maggio si giocherà l'andata a Napoli il 17 maggio il ritorno a Stoccarda ancora in Germania e quindi ancora con un prevedibile accompagnamento di questi tifosi che proprio adesso vengono inquadrati dalla regia tedesca sicuramente l'apporto di questi tifosi di questi sostenitori è stato determinante per far giocare il Napoli nel clima più giusto del clima ideale si è sentita seguita la squadra si è sentita apprezzata amata sospinta e ha saputo rispondere alla grande sfruttando ancora una volta come aveva fatto all'andata una grande e saggia impostazione tattica e sfruttando ancora una volta il talento calcistico di alcuni suoi elementi che sono veramente di categoria superiore in maniera particolare dobbiamo dire che la coppia non tira forse pensava che non fosse carannante ha avuto un'altra palla pensava di essere o in fuorigioco che non fosse valida l'azione che era invece regolarissima e carannante per questa volta la seconda volta da quando è entrato è entrato in tre minuti ha avuto due palle gol grossissime ed è questo l'ultimo episodio il Napoli grazie come vi dicevo la coppia sudamericana Maradona Careca ha sbancato l'Olimpia Stadium di Monaco e il Napoli dopo aver eliminato in successione il Pauk di Salonico poi il Locomotive di Lipsia poi il Bordeaux poi la Juventus adesso ha eliminato in semifinale il Bayern Monaco e il 3 e il 17 maggio disputerà la finale contro un'altra formazione tedesca dello Stoccarda ancora un riepilogo Careca al quindicesimo della ripresa pareggio di Augenthal era il diciassettesimo Careca ancora al trentunesimo definitivo pareggio di Reuter al trentacinquesimo il Napoli ha pareggiato a Monaco con il Bayern 2 a 2 il Napoli è in finale